Non posso credere che ci sia di nuova casa. Amore, quanto mi sia manciata. Andiamo al motore faserà. Sieni qui. Mira con calma. Oddio. Qui non c'è nessuno. Ero fuori dalla finestra. Visto? Non c'è il mostro. No! Non c'è nessuno. Ero fuori dalla finestra. Ero fuori dalla finestra. Via, via, via! Divisione 1, perlustrate la zona! Individuate un perimetro e coprite le spalle alla Divisione 2! Ricevo 206, chiudo! Muovetevi, muovetevi! Trapporto! Divisione 1, sono sotto controllo! Divisione 2, zona sotto controllo! Sceriffo Morales per la Guardia Nazionale, mi sentite passo? Sceriffo Morales per la Guardia Nazionale, rispondete! Sono il Tenente Woods, comandante della 89esima della Guardia Nazionale! Venga avanti, sceriffo! Dov'è situato, Tenente? Passo! Siamo a Main Street! Ascolti, Tenente, non so in che situazione vi state cacciando! Qui le cose precipitano! Tenente, risponda! È ancora lì! Un nostro uomo è scomparso! Aspetti, sceriffo! Sparate! Sparate! Che diavolo è che sta sparando? Ha un po' stato, Tenente! Sparate! Andiamo a portare laggiù! Signore, sono dappertutto! Ridilata! Ridilata! Tenente! Ridilata! Tenente, siete ancora lì? Tenente, mi risponda! Siete ancora lì?